Tassa di soggiorno più cara a Como sia a rialzo se i soldi saranno investiti nel turismo è il monito che arriva dal settore alberghiero. L'aumento scatterà a partire dal 1 gennaio 2024. Le nuove tariffe sono state decise dalla giunta di Palazzo Cernezzi. L'incremento, secondo le stime, potrà portare il prossimo anno nelle casse comunali un incasso pari a 3 milioni e 200 mila euro. Per il mondo alberghiero comasco l'aumento è in linea con le cifre delle altre città turistiche, ma la condizione resta la stessa. I soldi derivanti dalla tassa di soggiorno devono essere spesi per il settore turistico. La tassa è stata aumentata anche in Centrolago, anche se la cifra resta minore rispetto a Como, sottolinea il presidente dell'Associazione Albergatori di Commercio Como, Luca Leoni. L'aumento è corretto se pensiamo alla necessità di servizi che vengono erogati, dalla pulizia al trasporto e ancora ai servizi igienici. L'importante è che a Como inizi un percorso di convolgimento, aggiunge Leoni, per mettere in atto strategie a favore della città. Come avviene in Centrolago, dove il mondo alberghiero è coinvolto a livello consultivo per collaborare con l'amministrazione sulle possibili connessioni turistiche. Infine, Leoni sottolinea, i soldi della tassa di soggiorno nascono dal mondo del turismo ed è giusto che vengano sfruttati per questo settore. La tassa è applicata a ciascuna persona per ogni giorno di pernottamento. Per le strutture alberghiera, 5-4 stelle, la tariffa passerà rispettivamente da 4 euro e 2,50 euro a 5 euro. Raddoppierà da 2 a 4 euro la tassa richiesta dagli hotel 3 stelle, mentre triplicherà da 1 euro a 3 euro quella richiesta dagli hotel 2 stelle. Le strutture ad una stella chiederanno 2 euro al giorno. Le nuove tariffe sono in linea con le altre città, ad esempio Milano, spiega l'assessore al bilancio del comune di Como, Monica Doria, un aumento necessario visto l'afflusso turistico sempre maggiore. Poi aggiunge, fondi che arrivano dalla tassa di soggiorno vengono utilizzati per il verde, la cultura e lo sport. I 2 milioni di quest'anno, ad esempio, sono stati utilizzati, spiega infine Doria, per contributi ad associazioni sportive, manutenzione del parco di Villa Olmo e ancora manifestazioni estive, natalizia, promozione turistica. Grazie 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 Grazie